Il GIP del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta, ha convalidato i fermi dei due fratelli di Canosa di Puglia, nel nord barese, Sabino e Luciano Carbone, di 30 e 35 anni per il tentativo di omicidio compiuto nei confronti del 27enne Fabio Paciolla, avvenuto la notte tra venerdì e sabato dello scorsa settimana, mentre la vittima era ancora una volta in cerca di indizi sulla scomparsa di un suo amico, Giuseppe Vassalli, di cui non si hanno più notizie, da agosto del 2015, è ritenuto dagli inquirenti vittima di una lupara bianca. Per quanto accaduto quella notte, i due non sono gli unici indagati. La procura infatti indaga anche su Paciolla stesso per detenzione abusiva di arma. Paciolla, ritrovato nella sua auto nel parcheggio della stazione ferroviaria dopo essere stato raggiunto al collo e dal capo da tre proiettili, scampato alla morte dopo essere stato sottoposto ad un lungo e complicato intervento chirurgico, avrebbe reso agli investigatori dichiarazioni incoerenti e contraddittorie.